Scandalo a uomini e donne. Mario Cusitore avvistato con una donna misteriosa. Durante l'ultima sessione di registrazione del famoso show televisivo Uomini e Donne, sono emersi dettagli inaspettati riguardanti Mario Cusitore. Secondo le anticipazioni, la produzione avrebbe ricevuto una segnalazione riguardante Mario. L'affermato speaker di Radio Kiss Kiss è stato visto mentre lasciava un bed and breakfast accompagnato da una donna. In risposta a queste affermazioni, Mario ha cercato di difendersi durante la registrazione in studio. Ha contattato il barbiere del negozio dove si trovava quel giorno per confermare la sua versione degli eventi. L'uomo ha confermato la versione di Mario, ma Tina Cipollari, non convinta delle intenzioni di Cusitore, ha continuato a contestarlo, insistendo sulla veridicità della segnalazione. Al contrario, Ida Platano ha creduto a Mario e all'alibi fornito dal barbiere. Durante una danza, Pierpaolo Siano ha comunicato a Ida la sua intenzione di lasciare il programma, ma ha condizionato il suo ritorno alla volontà di Ida di andarlo a riprendere. Alla fine dell'episodio, Ida ha lasciato lo studio. Mario ha tentato di raggiungerla, ma lei ha rifiutato di incontrarlo. In seguito a un litigio, Ida Platano ha abbandonato lo studio. Per quanto riguarda il trono classico, Daniele Paudice ha avuto un appuntamento esterno sia con Gaia che con Marica. Gaia ha espresso preoccupazione che Daniele potrebbe non essere attratto da lei. Nel breve segmento dedicato al trono over, Marcello Messina e Jessica hanno avuto una lunga discussione, ma il loro futuro rimane incerto, senza una conclusione definitiva sulla loro relazione.